Senti che silenzio, vabbè silenzio, è rumore, è rumore della natura e che profumo si sente l'odore dell'erba, della campagna, il che freschino fa. Oggi faceva un caldo che si moriva, ma veramente si moriva. Ecco com'è andata. C'è per fortuna una bella escursione termica tra il giorno e la notte, di più di 10 gradi. Purtroppo la notte, abbassandosi la temperatura, si alza l'umidità relativa. È inevitabile perché il vapore in sospensione nell'aria non è che sparisce. Io a casa non ho il condizionatore. Purtroppo mia moglie non lo sopporta. E in questi giorni di grande grande caldo mi devo barcamenare in tutti i modi per risolvere e attenuare la caldazza che c'è. Allora mi è venuto in mente perché non condividere le mie strategie, per così dire, strategie con chi mi ascolta, per aiutarlo a risolvere lo stesso problema. Allora mi sono messo a fare rilevamenti, grafici, misurazioni. Ma sarebbe venuto fuori un pippone pazzesco e noiosissimo. Quindi preferisco andare al sodo con pochi e chiari concetti. Iniziamo. Beh, quella contro il caldo è una guerra che non possiamo vincere da soli. Per fortuna abbiamo però degli alleati che sono il fresco notturno, la massa della casa, l'ombreggiamento, la ventilazione, l'altezza della casa per sfruttare la stratificazione e il nord. Attenzione che se non usati bene possono essere contro di noi, alleandosi con il nemico, che è il caldo. Vediamoli uno per uno. Il principale alleato, la risorsa più importante è il fresco notturno, che va sfruttato al massimo. Anche nei giorni più caldi è una risorsa evidente. Anche qui in pianura, dove sembra faccia caldo costante, c'è un'escursione termica di circa 10 gradi. In montagna è un po' più ampia ed è simile a noi al mare. Ma come sfruttarla? Entrano in gioco le masse, le parti pesanti della casa, che sono i muri, i soffitti e i pavimenti. Essendo densi e pesanti, impiegano molte ore a cambiare temperatura. È un po' l'effetto che c'è nelle chiese antiche, che hanno i muri molto spessi, che sono sempre freschi. Quindi il trucco è fare in modo che l'aria fresca li lambisca durante la notte, ecco che entra in gioco la ventilazione, per raffreddarli. In questo modo possiamo sfruttarli durante il giorno per abbassare la temperatura degli ambienti, come quando mettiamo il ghiaccio nell'acqua. Importante quindi tenere le finestre aperte di notte per aumentare la ventilazione. Servono però zanzariere ed inferiate per lasciar fuori zanzari e ladri. Veniamo all'ombreggiamento. Il sole diretto non deve entrare mai in casa d'estate. Scalderebbe pavimenti, serramenti, muri, eccetera. Bisogna fare ombra alla casa, anche sulle facciate, perché anche quelle si scaldano se colpite dalla luce solare e poi il caldo attraversa la facciata e entra in casa. Il massimo sono gli alberi a foglia caduca, perché fanno ombra d'estate con le foglie e lasciano passare la luce d'inverno quando non hanno le foglie perché sono cadute. Ottimo quindi piantarli davanti alle finestre a sud per fare ombra sulle facciate ed evitare che il sole entri dai vetri. Alternative alle piante sono le tende da sole o gli aggetti dei balconi ai piani di sopra. Importante, devono stare fuori le tende. Se la tenda la mettiamo all'interno, l'onda termica entra dal vetro e scalda la tenda, che scalda l'ambiente interno, rendendo tutto inutile quindi. Poi c'è la ventilazione, è una risorsa fondamentale. Il movimento dell'aria, oltre al raffrescamento della casa di cui abbiamo detto prima, gioca un ruolo primario per il comfort, in quanto aumenta l'efficienza della nostra traspirazione, la sudorazione. Perché funzioni? Dobbiamo aprire le finestre su fronti opposti della casa per creare corrente, si dice riscontro d'aria. E se abbiamo la fortuna di avere una casa su più piani, possiamo attivare l'effetto camino, aprendo le finestre in alto. Io qua sono in mansarda e dalla scala io ho l'effetto camino. L'aria calda, per sua natura, tende ad andare in alto, perché è più leggera di quella fredda. E così sarà lei stessa, uscendo dall'alto, a far entrare dal basso aria più fresca. Si crea così un movimento convettivo che può essere anche molto potente. Il vantaggio del movimento ascendente dell'aria, che funziona anche se non c'è vento all'esterno, ed evita la stratificazione dell'aria ai piani alti. Mi sa che sono andato un po' a lungo. Per concludere ti consiglio di scegliere con buon senso quali finestre aprire. Quelle a nord puoi dimenticartele aperte giorno e notte. Quelle a sud aprile solo al tramonto e di notte. Quelle a est aprile al pomeriggio e quelle a ovest alla mattina. In pratica non devi ma far entrare il sole dalle finestre. Meglio chiudere anche le tapparelle negli orari in cui vengono colpite dai raggi solari. In questo video ho parlato di come stare freschi, o meglio un pochino più freschi, in una casa già costruita. Ma sono tante le tecniche per costruire case nuove che rimangano fresche d'estate e calde d'inverno anche senza impianti o con i pianti ridotti al minimo. Ma ne parleremo in un altro video. Finisco qui. Ti ringrazio per la pazienza con cui mi hai ascoltato e spero che questi consigli ti possano essere utili per vivere meglio nei giorni caldi della stagione che per me è la più bella dell'anno, l'estate. Ciao ciao!